La raccolta differenziata approda anche a 20 miglia. Dal 4 aprile infatti nelle zone di Via Tenda, Roverino, Porra, Gallardi e Marina San Giuseppe avrà inizio il nuovo servizio sperimentale della raccolta del porta a porta delle diverse tipologie di rifiuti organico, carta, plastica, vetro e indifferenziato. Per arrivare preparati e senza alcun dubbio sul comportamento da tenere come utenti responsabili a A partire dal 7 marzo saranno programmati dall'amministrazione comunale appositi incontri informativi di presentazione del nuovo servizio e dalla settimana seguente saranno organizzate delle serate dedicate esclusivamente al ritiro gratuito del kit obbligatorio necessario. I sacchi che verranno distribuiti saranno dimensionati sulla base del numero di conferimenti previsti per ogni tipologia di rifiuto e tracciati con apposito codice. Verranno consegnati assieme a informativi e al programma di esposizione raccolta. L'amministrazione avverte che l'obbligo di attenersi alle nuove modalità di funzionamento del servizio porta a porta entra in vigore nei confronti di tutti gli abitanti delle zone in cui si svolgerà la sperimentazione per l'anno 2016. Il sindaco Enrico Ioculano con una nota ha già voluto ringraziare tutti i cittadini che renderanno possibile la riuscita di questo importante passo verso una città più pulita e consapevole dell'importanza di differenziare.